Dai, David Jax Ma quindi io da qua, sono? Ce l'hai lì su? Sì sì ce l'ho. Adesso deve scaldarsi un po'. Ok, va bene. Io faccio il Devin Jax. Ce lo devi provare ma... Vai sedere qui sopra un po' le... l'unica parere per raccordarsi l'unica parere per raccordarsi l'unica parere per raccordarsi Ah ok, infatti no. Perché non te lo diamo noi e tu, perché non fai la prima parte. E dopo a tornare a decidere? Eh, dopo, ma non perché sono solo riff. Gli avanti. Gli avanti, va. Gli avanti, va. Gli avanti, va. Gli avanti, va. Allora, non sai che ti riparte a due. Giallo. E poi dopo il riff. Si ritiene da capo. Si, è un secondo si, perché... Guardatevi voi, perché in realtà alla fine è vasta. No, quando fai... Dopo si ferma qua. Eh, niente, c'è di... Secondi capirci. Si. C'è proprio un nuovo modo di gestire. Poi se c'è... Speriamo che se ne fregano, però che sei organico. Giallo, ho capito? Ho capito di divergenza. Ho capito di rimbalzare una cosa per vedere questo stile. Mi guardo, dopo, alla fine è una parte del riff. Si, cioè, alla fine è il riff. Ho capito di rimbalzare. Ho capito di rimbalzare. Ho capito di rimbalzare. Ho capito di rimbalzare. Ho capito di rimbalzare una cosa per vedere questo stile. Quindi... Io faccio il tema di armonica. The man called armonica. Noam, guardiamoci, guardiamoci. Gli unici siamo io e te. Che non si caga nessuno. Cioè, che noi possiamo fare quello che vogliamo. Perfetto, no? Io direi. Sono alcune cosette che sentirei che... Armonizzamenti. No, a parte quello... Taro sta arrivando, eh? Sta arrivando? Ok, io se ascolto molto. Leva il caffè, poi... Ero al caffè. 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 Grazie a tutti.